Solo chi si è sottoposto a tre dosi di vaccino può entrare direttamente in Austria, con due dosi e un certificato di guarigione, obbligatorio invece un test Covid negativo. Diversamente si passa attraverso la quarantena. I controlli negli aeroporti funzionano senza problemi, visto che il traffico complessivo degli spostamenti è basso. A volte ci possono essere dei tempi di attesa a seconda del volume dei passeggeri. Al momento abbiamo un volume di passeggeri molto basso. Siamo al 40% dal livello pre-crisi, pertanto il tempo di attesa è piuttosto breve. Il controllo degli ingressi è affidato all'esercito austriaco. A Innsbruck si è avuta la conferma che i viaggiatori sono ben informati, anche quelli provenienti dal Regno Unito. Per i turisti i tamponi sono gratuiti. Ho fatto la vaccinazione di richiamo. Abbiamo fatto un test in Inghilterra ieri e mostra che non abbiamo il Covid. Le stesse norme valgono per chi entra nel paese alle frontiere nazionali. Solo per i pendolari sono adottate per ovvie ragioni, regole meno stringenti.